Se anche tu durante il periodo nato inizio hai detto no alla vita sociale ma mettiamoci a livellare la spada su Dauntless ebbene sei sul canale giusto Ciao, sono Dani T, o Cinghiale di Ferro su Dauntless e oggi ti porterò un set per quanto riguarda questo evento, la spada d'argento, portata al suo massimo livello, cioè il livello 10 ma prima come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un like se questo video ti è piaciuto e un commento per farmi sapere la tua sull'evento natalizio 2022 ma ora lanciamoci sul video Allora ragazzi, vi ricordo che questa spada poteva essere potenziata e livellata fino al 5 gennaio 2023 quindi spero vivamente che molti di voi siano riusciti ad arrivare al livello 10 perché sì, non era così difficile, bisognava solamente ottenere esperienza dai bimoth cacciati però è anche vero che l'esperienza che si chiedeva era davvero davvero troppa e personalmente voglio ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno dato una mano per livellare più velocemente quest'arma e quindi darmi l'opportunità di creare questo video quest'oggi Il primo set che vi ho portato sul mio canale per quanto riguarda la spada d'argento si basava sui punti vita dato che i valori delle celle, nonché i valori successivi, erano piuttosto bassi ma al contrario i punti vita avevano un valore più elevato quindi ho preferito optare per una build un po' più tankosa o comunque puntata sui danni in base al numero di HP che possediamo Questa build, al contrario, con la spada a livello 10 si basa di più sugli scudi e come vedete non utilizziamo bastione ma bensì re di vivo per aumentare di più i danni Inoltre in questa build non è presente vortice di lame perché è una build più tattica in cui cercheremo di fare molte più schivate per conservare il nostro scudo Per questo set, e mi sembra anche ovvio, ho utilizzato la spada dell'Urska al cui al suo interno ho inserito la cella Egida e la cella Fortezza La speciale, questa volta, è solo a carica valorosa La mod, invece, sarà Elsa Ricorsiva e naturalmente il legame sarà con la spada d'argento In questo set abbiamo, come unicella, re di vivo e non bastione Perché vi chiederete? Ebbene, abbiamo bisogno degli scudi non solo come mezzo di sopravvivenza ma perché, pari alla quantità di scudo che otterremo otterremo anche una percentuale di critico data dalla cella galvanizzato che, in questo caso, nel mio set, è più 6 La lanterna sarà Scarn Naturalmente, è ovvio L'elmo sarà quello del Torgador, con cascata più 3 Il petto avremo il Trax, con astuzia I piedi saranno, invece, con una cella galvanizzata E, infine, i guanti in cui troveremo la cella Egida I tonici, come sempre, a vostra scelta Io, in questo caso, non ho aggiunto il pilone però, se dovessi aggiungerlo, toglierei il tonico d'assalto Quello che state vedendo in questo istante è il mio repilogo bonus Astuzia e galvanizzato saranno le mie fonti di danno Egida e Fortezza mi aiutano ad ottenere più scudo Inoltre, ad annullare un colpo subito Cascata e Zelo, invece, serviranno Cascata, per ottenere sia la sfera viola E sia la sfera verde Che, vi ricordo, con un bonus di più 6 Vi fornisce anche uno scudo Zelo, invece, ci servirà per potenziare la nostra lanterna Naturalmente, questo effetto verrà ancora migliorato Dai tonici in uso Infine, ho preferito ottenere Guardiano al 3 Ma questa è una scelta personale Come potete vedere in queste immagini Mi trovo nel terreno di prova E sia la quantità di vita che di scudo Sono molto alte C'è da dire che in questa modalità Non posso utilizzare nessun tonico In più, al momento attuale Nessuno sta condividendo con me il suo scudo In più, sempre per gli scudi La loro durata è parecchio alta Quindi ci permetterà di mantenere il bonus critico Per un tempo molto lungo Ma naturalmente sorge la domanda Come si è comportato questo set in una scesa? Ebbene, scopriamolo subito Parto subito dicendo che, come ho detto all'inizio Questo set non è per avventati Ma bensì dovete giocare in maniera molto strategica Quindi questo comporta conoscere le creature che stiamo affrontando Nonché avere un ottimo posizionamento Per sfruttare al massimo re di vivo In questo caso Un'ottima posizione per affrontare il charrog Sarà sicuramente Davanti o alle sue spalle Così da massimizzare il danno di re di vivo Il combattimento Anche se questo è il primo Tutto sommato non è durato tantissimo Come potete vedere Non appena l'effetto di re di vivo Sarà terminato La quantità di vita Che era mancante Verrà subito rimborsata Vi ricordo inoltre Che questo effetto Sarà amplificato Grazie alla passiva Della lama d'argento Per quanto riguarda Il secondo combattimento Abbiamo un koscià e foscomanto E un emberman Di certo Qui La passiva unica Dell'arma dell'ursca Mi è tornata molto utile Però è anche vero Che ho sbagliato Per quanto riguarda Il posizionamento Per colpire l'emberman Fiammeggiante Ma nonostante tutto Come potete vedere In pochi colpi Anche questa creatura È caduta a terra E vi ricordo Che non sto comunque dando Il massimo dei danni Dato che il livello Dell'arma Per questa scesa Era 17 E non 20 Il kosciai Foscomanto Tra l'altro Devo dire che È una delle creature Più semplici Da abbattere È molto semplice Nel suo pattern di mosse Specialmente Quando si posizionerà Lontano da noi Scagliandoci Quella mina O quella bomba oscura Il kosciai Sarà praticamente Fermo Continuerà a stare fermo Per parecchi secondi E quindi È un'ottima occasione Sia per aumentare Il nostro dps E sia per sfruttare Al massimo Re di vivo Con un ottimo posizionamento Finalmente Nella terza arena Si presenta Una degna sfida Il faelenax Una creatura Molto agile Con ampi movimenti E spazzate A largo raggio Questa creatura Sì Mi ha dato Parecchio filo Da torcere Perché sia Tra le mine Che lancerà Nel terreno Sia le continue Rotolate E le spazzate Con le ali Non è un avversario Facile O comunque Da sottovalutare Dato che Il nostro scopo Principale Sarà quello Di mantenere Gli scudi Che come Vi ho detto In precedenza Saranno Non solo La nostra difesa Ma anche Il valido metodo Per aumentare La nostra percentuale Di critico La quarta arena Abbiamo due Delle creature Più fastidiose Del gioco O perlomeno Nella lista Delle creature Fostidiose Karabakh E drask tuonante Il drask tuonante Agile E con attacchi Roteanti Continui Il karabakh Invece Avrà attacchi Dalla lunga distanza Nonché anche Il ferimento Questo debuff Sarà uno Di quelli Che dovremmo Certamente Evitare Perché ridurrà Il numero Di volte Che potremmo Attivare Redivivo E infine Se arriveremo Alla vetta Del vulcano Ci sarà Da aspettarci Il nostro Scimmione Preferito Il Torgador Beh Il Torgador È la fusione Di tutto Attacchi ad aria Velocità Salti a destra E salti a sinistra Ma nonostante tutto Cercate di Cogliere Quei momenti Di stallo Per colpirlo Violentemente Con il redivivo Inoltre Il Torgador Quando si sdraerà A terra Sarà più o meno Come un quadrato Quindi In qualsiasi Posizione Ci troveremo Quindi da spalla a spalla O dai piedi Alla testa O viceversa L'effetto Di redivivo Sarà comunque Massimizzato Quindi Dovremmo avere Una maggiore Attenzione Per schivare I suoi attacchi Naturalmente Anche lui Come le creature Precedentemente Affrontate E' andato Giù Che dirti di più Se sei interessato Ad altri video Per quanto riguarda Il set Della lama D'argento O su altre armi Ti consiglio Anche questi video E da E da Dany T O cinghiali di ferro E tutto E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Ciao Slayers I suoi attacchi